Valentina Fusco, Cittadina Libera. Vorrei che non si perdesse il focus di questa situazione. In virtù di quale preoccupazione si sta parlando di un obbligo di trattamenti sanitari, sia quello vaccinale sia quello di tamponi? In virtù di quale emergenza noi stiamo discutendo? Perché probabilmente ci siamo dimenticati che il 30 settembre 2021 è stato chiarito in quale emergenza siamo. Quello sanitario è soltanto un rischio, mentre invece le promulgazioni dell'emergenza in questi due anni sono state fatte in virtù di un'emergenza, senza nessuna spiegazione. Ebbene, però contestualmente sappiamo che è pronta quella climatica. E allora mi chiedo, tutta questa discussione non ci sta facendo perdere qual è l'obiettivo? Non è che mentre noi discutiamo di questo poi ci ritroviamo in calamità naturali senza accorgercene? Sapete com'è? Una pioggia è facile da far arrivare, è un terremoto lo stesso.